La risposta alla fuga di forza di lavoro e alla delocalizzazione delle imprese di questa e delle altre province confinanti con la Svizzera sul territorio elvetico non è argomento semplice, considerando che la prima proposta di legge sulle cosiddette ZES da parte del Consiglio regionale della Lombardia fu presentata nel luglio del 2014. Chiariamo subito. Per ZES si intende una zona economica speciale all'interno di uno Stato in cui sono adottate leggi di natura finanziaria ed economica con l'obiettivo di attrarre investitori grazie a trattamenti vantaggiosi con regime fiscale ridotto se non azzerato. Insomma, se lavoratrici e aziende scappano in Svizzera, richiamati da salari più alti e trattamenti fiscali migliori, bisogna fare sì che rimangano qui. Ma come? L'argomento è tornato alla ribalta nei giorni scorsi, durante la festa provinciale di Confartigianato al Vallesana di Sondalo, dove l'assessore regionale agli enti locali, con delega ai rapporti con la Confederazione Elvetica, Massimo Sertori, ha confermato l'interesse da parte del governo per la risoluzione dinanzi a questo esodo che si ripercuote naturalmente su tutto quanto l'indotto economico di questa nostra provincia. Ne abbiamo parlato con il ministro Giorgetti, stiamo lavorando con grandissimo impegno perché crediamo che questo gap debba essere colmato, ha detto l'assessore. La risposta potrebbe dunque partire dall'accordo sottoscritto due anni fa dal governatore Attilio Fontana con l'ex presidente del canton Ticino, Christian Vitta, che da una parte salvaguarda i diritti dei frontalieri, introducendo per i nuovi lavoratori trans-doganali una fiscalità che produrrà un maggior gettito sotto forma di ristorni destinati ai comuni dove i frontalieri risiedono, denaro che servirà anche a diminuire il costo del lavoro. Anche perché, a onor del vero, una cosa va detta, un frontaliere italiano guadagna nettamente meno rispetto a un lavoratore francese o tedesco che presti il proprio lavoro nella confederazione. Oggi, tra un frontaliere italiano e un autotono, quindi un lavoratore svizzero, c'è una differenza salariale a parità di condizioni del 20% in meno. Sul fronte francese questo si riduce a circa il 10%, la metà. Sul fronte tedesco, dopo Basilea, diciamo che la differenza salariale è dell'1% in più, cioè si realizza un meccanismo inverso. Su questo c'è da considerare due aspetti che mi paiono importanti. Il primo è che, se si guarda la distribuzione del numero dei lavoratori, del numero dei lavoratori frontalieri, in realtà il numero in assoluto non determina il dumping, ma lo determinano le condizioni di partenza del paese d'origine, insomma. L'altra questione è che al dumping salariale derivante dalla contrattazione si aggiunge anche tutto un tema relativo al riconoscimento dei titoli di studio. Molto spesso ci sono questioni in cui il sistema del riconoscimento non solo non è efficace, ma non è utilizzato proprio per paura che il riconoscimento di quei titoli dia diritto a un salario più basso. Necessaria dunque un'azione doppia, da una parte rivolta a favorire la crescita e la salvaguardia di aziende e lavoratori qui, nel nostro territorio, al fine di fronteggiare allettanti fughe oltralpe. Dall'altra, per i lavoratori frontalieri, azioni che mirino ad abbattere il dumping, la pressione al ribasso dei salari cui i nostri lavoratori sono soggetti. Ovviamente il contrasto al dumping salariale si realizza da un lato estendendo la contrattazione collettiva. È utile ricordare che in Italia il rapporto tra la contrattazione collettiva e quelli sprovvisti di contrattazione collettiva è 85% a 15%, in Svizzera appunto è 50%. L'estensione ne determina ovviamente una riduzione delle condizioni di deroga dei salari e l'altro ovviamente alzando e elevando i minimi salariali e soprattutto introducendoli in quelle parti della Svizzera dove non ci sono.